Il sesto concorrente della mattinata è Catalano Cristè, Nazione Italia, cittadinanza italiana a livello di 5. Eseguirà nell'ordine Bar, Ciaccona, dalla seconda partita in Re Minore, Lipice, dallo studio numero 18 variazioni Allegro, Andantino, Energico, dalla tecnica superiore del violino con arcate e ditteggiature originali. Sivori, studio capriccio numero 9, per violino solo, dai 12 studi capricci, opera 25, revisione di Fulvio Luciani. Mozart, concerto di Sol Maggiore, KB216, terzo movimento e carenza di Franco. Sarà accompagnato dal pianista Eugenie Sinarski. Vi ringrazio inoltre per la cortesa attenzione, ricordando che le eliminatorie riprenderanno maggio pomeriggio alle ore 15.30, per concludersi alle 20.30. Quindi vi auguro un ascolto. Grazie. 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 Grazie.